Questa è una tratta fortemente voluta soprattutto dai leccesi, ci chiedevano costantemente un collegamento veloce con Bari e credo con questo servizio regionale, il consigliato regionale Prime abbiamo soddisfatto una richiesta abbastanza importante da parte dei leccesi ma anche dei brindisini perché come sapete la tratta collegherà Lecce e Bari in un'ora e 25 minuti quindi risparmiando ancora 20 minuti rispetto al treno regionale classico. Quindi questo è un passo importante per la regione Pula oltre al fatto che oggi inauguriamo anche i nuovi treni pop che come sapete sono la punta di diamante del trasporto ferroviario perché sono treni sostenibili dal punto di vista ambientale, hanno la possibilità di trasportare più passeggeri, più posti a sedere ma soprattutto trasportare anche biciclette ed è prevista anche la ricarica per le bici elettrico oltre all'accesso agli utenti con disabilità. Quindi per noi aver investito come regione Pula nell'acquisto di questi nuovi treni pop significa anche raggiungere quell'obiettivo che ci siamo dati cioè sostituire l'intera flotta con treni più veloci, più sostenibili ma soprattutto più efficienti.